Il dossier povertà vuole soprattutto mettere in evidenza quello che è il vissuto in termini di difficoltà delle famiglie campane. Il dossier di quest'anno fa emergere soprattutto una condizione di povertà che ha come figura l'uomo, sempre di più un uomo italiano, sempre di più una condizione che si frammenta in una famiglia che si va sgretolando, difficoltà, quindi povertà complesse, variegate. Il dossier vuole soprattutto raccontare le storie, i volti di tutte le persone che si sono rivolti ai nostri centri di ascolto presenti in tutte le diocese. Il dossier Immigrazione, quello promosso da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, vuole comunque portare avanti quella che è una visione soprattutto di comprensione del fenomeno migratorio, che non è solo dovuto a questa condizione di emergenza, quindi di richiesta di profughi che vengono e che aumentano di anno in anno, ma vuole soprattutto porre l'attenzione a quello che è un percorso di accoglienza, di integrazione, di crescita soprattutto delle comunità locali.